Spostiamoci, andiamo adesso a Nuoro e vediamo le discariche a cielo aperto nel parco di Tancamanna e nel campo scuola. Per noi c'è Sonia Meloni. Pacchetti di sigarette, assorbenti, pannolini, buste di plastica, strisce per misurare la glicemia ed escrementi vari. Giacciono stratificati, un insieme di rifiuti di ogni genere. Spuntano come i funghi nella pinetta che si estende tra il parco di Tancamanna e il cosiddetto campo scuola. Una vera e propria discarica a cielo aperto nel cuore della città, percorsa quotidianamente da studenti, proprietari di cani e passanti, in generale che, arrivando dal quartiere del Nuraghe, la utilizzano come scorciatoia per raggiungere la zona sottostante. E questa volta l'amministrazione comunale c'entra ben poco. È impossibile infatti avere gli occhi ovunque. Il verde pubblico, infatti, almeno in quel punto, è abbastanza curato, a differenza del senso civico dei cittadini. Anche di quelli più giovani, che dovrebbero essere i più sensibili ai temi ambientali, che evidentemente continua a mancare con il rispetto di un bene collettivo da tutelare e rispettare qual è l'ambiente. La pinetta, essendo a due passi dal parco dell'omonimo sito archeologico di Tancamanna, oltre ad essere uno dei principali polmoni verdi per la città, potrebbe esprimere un alto potenziale turistico, ma lo stato di degrado in cui versa nel suo complesso le fa perdere attrattività. La sua posizione scoscesa rispetto alla trafficatissima via Marti della Libertà, purtroppo, ne fa un bersaglio facile per gli incivili, che vi possono sguazzare senza essere osservati. La soluzione che alcuni residenti hanno proposto è quella di posizionare delle fototrappole una volta che l'area verde sarà ripulita, semmai lo sarà.